18 anni e non sentirli, Saber Rajec è una delle rivelazioni della primavera blucerchiata di quest'anno. Arrivato sotto silenzio dalla Virtus Entella, ora la Samp punta al riscatto della sua metà, concordato per una cifra attorno ai 100.000 euro. Intanto il ragazzo di origini tunisine ha ottenuto la cittadinanza italiana, perché sono nato e ho sempre abitato a Mazzara del Vallo. Ho ancora forti legami con la Tunisia perché là ho dei parenti, ogni tanto ci vado in vacanza. Martedì si è anche messo in mostra nella partitella con una doppietta. Fa sempre piacere anche se era una partitella così, questo il commento del giovane giocatore. Mijailovic non mi ha detto nulla e rimasto sempre seduto in panchina. Saber cominciò a giocare per strada. Ho iniziato a Mazzara del Vallo quando avevo sei anni, un dirigente di una società locale mi ha visto e così ho iniziato tutta la trafila. Ho esordito in Serie D quando avevo 15 anni. Al Viareggio, Rajec è stato uno dei migliori e qualcuno lo starebbe seguendo, fra cui il Trapani. Non so niente di queste cose e non ci penso. In questo momento sono concentrato sulla Samp e sul ripagare la fiducia che mi ha dato. Certo, ognuno vorrebbe per sé sempre il massimo, chiude il giovane centrocampista. Il mio desiderio è diventare un calciatore professionista e sto facendo il massimo per meritarmelo.